Domani il caso Isac piomba in consiglio comunale, Poleto dice il CDA si dimetta. L'ondata di maltempo annunciata si sta scaricando sulla Pedemontana, danni e disagi. Caditoie intasate, tombini allagati e da Bassano ci arriva la segnalazione di un telespettatore preoccupato. Maxi operazione della questura di Vicenza per un sequestro d'armi in un'abitazione di Breganze. Nonostante la pioggia, grande successo per la fiera di San Simeone a Marostica. Ruba, una tannica di gasolio nell'azienda in cui lavora, operaio denunciato dai carabinieri. Paura sulla Marosticana, schianto fra tre mezzi, conducente in ospedale. La polizia locale del Campo San Pierese ha scoperto una locazione turistica abusiva. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Bassano ed intorni. In apertura il caso Isaac che domani piomberà in Consiglio Comunale e dall'opposizione arriva una dura presa di posizione, quella dell'ex sindaco di Bassano Riccardo Poletto che dice il CDA si dimetta immediatamente, bisogna ripartire. Urgerebbe davvero da parte del sindaco ogni azione possibile, per quelle che sono le sue possibilità, le sue capacità, per azzerare il CDA e poterlo rinnovare completamente. Sappiamo che non lo può fare d'ufficio, però noi insistiamo a chiederle, e siamo disponibili anche a fare la nostra parte per quello che serve, per chiedere con ulteriore insistenza al CDA di farsi da parte. L'ultimo giorno di febbraio il Consiglio Comunale di Bassano chiedeva con una larga maggioranza un passo indietro al Consiglio di Amministrazione dell'ISAC, assieme ai lavoratori e ai sindacati scesi in piazza per rafforzare il concetto. Sono passati otto mesi e non è cambiato niente. Anzi, il CDA residuo guidato da Clemente Peserico ha reso ancora più solida la propria posizione, annunciando la futura dismissione di Villa Serena e la costruzione di una nuova ala alla Residenza Sturm. Qualche giorno fa sono partite le indagini per una presunta turbativa negli appalti dell'istituto con otto indagati e una situazione tutta in divenire. E fra poche ore la vicenda piomberà in Consiglio Comunale, grazie a un provenimento delle minoranze preoccupate per lo stato attuale dell'ISAC e per il futuro. Nel frattempo però le strutture dell'ISAC sono in sofferenza. E soprattutto, come dire, il sintomo più negativo è che i posti di letto sono in gran parte vuoti. Parlo soprattutto di Villa Serena. Questo non crea soltanto un problema di tipo economico, perché chiudere i bilanci diventa faticoso quando hai delle spese fisse e poi in realtà le entrate, gli utenti sono molto pochi, ma crea anche molta incertezza rispetto al futuro dell'intero ISAC cittadino, quindi di un IPAB. I bassanesi a questo punto si chiedono cosa si possa fare. L'attuale CDA, le soluzioni che ha in mente, sono tagli pesanti dei posti di letto. Noi crediamo che questa soluzione non sia quella giusta e crediamo che sarà invece rifondare una presenza pubblica significativa dei centri servizi di assistenza per gli anziani nel Bassanese. Voltiamo pagina, parliamo dell'allerta maltempo, un'ondata di maltempo annunciata per questi primi ultimi giorni di ottobre, i primi giorni di novembre si sta scaricando sulla pedemontana e sui rilievi con forti piogge e vento. La regione ha innalzato il livello di allerta al massimo grado per rischio idrogeologico e idraulico. L'allerta rossa rimarrà in vigore fino a domani sera e sarà valido per tutto il territorio bassanese e i rilievi. Molti comuni hanno attivato il centro operativo di protezione civile, il livello del Brenta è cresciuto pur rimanendo per il momento nel range di sicurezza. E a proposito di maltempo, è bastata la pioggia di questa mattina a Bassano per far ritornare d'attualità i soliti problemi alle caditoie e ai tombini. Vediamo. Le caditoie a Bassano restano un problema che crea problemi. Basta poco, una mattinata di pioggia e buona parte dei tombini della città va in apnea, otturati da foglie, rami, legno, sassi o semplicemente per colpa di anni di manutenzioni non efficaci quanto servirebbe. Qui siamo in via Armando Diaz e come vedete le caditoie sono completamente sommerse e la scatola dei cavi telefonici finisce puntualmente sott'acqua. Come se non bastasse, più piove e più si allaga anche il marciapiede. Insomma, stesso copione di sempre a Bassano dove è proprio il caso di dirlo, continua a piovere sul bagnato. E voi continuate a segnalarci episodi di pattume, degrado, sporcizia e chiaramente anche problemi legati proprio al maltempo. Questi sono i nostri recapiti. Noi come sempre daremo spazio alle vostre segnalazioni. Adesso saliamo in alto piano perché a cinque anni da Vaia il comune di Gallio illumina il leone e il gallo dello scultore Marco Martalar creati proprio con il legno schiantato dalla tempesta. A cinque anni dalla tempesta Vaia che ha colpito l'altopiano dei sette comuni con inaudita violenza causando la devastazione di molti boschi del comprensorio il comune di Gallio ha deciso di ricordare quei giorni drammatici illuminando in modo particolare le opere dello scultore Marco Martalar posizionate davanti al municipio. Si tratta del gallo da tempo presente sulla piazzetta come simbolo del paese e del leone che di recente è stato portato in alto piano. Entrambe le opere sono costruite con legname schiantato da Vaia e rappresentano per il territorio un simbolo di forza, rinascita e identità. Il sindaco di Gallio Emanuele Munari sottolinea inoltre che anche la battaglia con il Bostrico, un minuscolo insetto che sta distruggendo ampie porzioni boschive di tutta la zona, è arrivata finalmente a una svolta. Torniamo a Bassano perché ci sono novità sul caso, lo ricorderete, del furgone che si era schiantato nel sottopasso di Via Cartigliana. Ebbene, dopo anche l'arrivo delle iene in città, oggi si è espresso il giudice di pace. Vi ricordate la vicenda del signor Menegon che si era schiantato nel sottopassaggio di Via Cartigliana con un furgone? Quella storia molto strana in cui i cartelli che non si vedevano si vedono improvvisamente e tutti se la prendono con tutti al punto che in città arrivano addirittura le iene per un faccia a faccia con la sindaca Pavan? Bene, a oltre un anno dallo schianto, la faccenda già di per sé complicata ha visto oggi un nuovo capitolo con il giudice di pace che ha respinto le istanze del signor Menegon, il quale tuttavia non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca. La motivazione non la sappiamo ancora, ma io so già cosa scriverà. O meglio, non so cosa scriverà. Sono sicuro che però scriverà delle stupidaggini. Sono stato chiaro. Il giorno 20 di questo mese ho, diciamo così, fatto una denuncia querela depositata in procura a Vicenza e una a Trento, la stessa a Trento, che possano agire le due procure nelle rispettive competenze per una serie di reati durante la fase di questo procedimento giudiziario. Quali sarebbero alcuni di questi reati, secondo il signor Menegon? Una falsa perizia. Una perizia che non doveva neanche esserci perché è stata istituita nonostante fosse affetta da nullità assoluta. In questa perizia sono comparsi una serie di rappresentanti come CTU che non erano assolutamente legittimati a farlo. Ho già detto al giudice che io ricorrerò per le vie previste. Ancora cronaca. Ruba una tanica di gasolio nelle aziende in cui lavora. l'operaio viene denunciato dai carabinieri. Aveva rubato un'intera tanica di carburante in azienda ma è finito nella rete tesa dai carabinieri. Un uomo di Marosti che è stato denunciato a piede libero dai militari della stazione cittadina per furto aggravato ma a dare il via all'attività è stato il titolare della ditta. Qualche giorno fa, infatti, il proprietario dell'azienda di Colceresa ha infatti notato che l'operaio si comportava in modo strano travasando del carburante utilizzato per rifornire i mezzi della ditta in una tanica da 20 litri. Si può immaginare la sorpresa dell'impresario quando ha visto che il suo dipendente portava la tanica nella propria auto nascondendola sul sedile posteriore e occultandola con un telo. A questo punto è scattata la segnalazione ai carabinieri e una pattuglia in borghese ha atteso che il dipendente uscisse dall'azienda dopo l'orario di lavoro per tornare a casa. Poi è scattato il blitz e i carabinieri marosticensi hanno controllato l'abitacolo trovando la tanica piena di gasolio. L'operaio è stato portato in caserma per le pratiche di rito denunciato e rimandato a casa. Il carburante è stato subito riconsegnato all'azienda. E adesso una notizia di poco fa una maxi operazione della questura di Vicenza coadiuvata dalla polizia provinciale e dai vigili del fuoco partiti anche da Bassano per un sequestro d'armi in un'abitazione privata a Breganze. Il blitz è avvenuto come dicevamo poco fa nella giornata di oggi non sono stati resi noti ancora tutti i dettagli dell'operazione domani tuttavia è prevista una conferenza stampa in questura a Vicenza o nella sede della polizia provinciale durante la quale il questore Paolo Sartori illustrerà tutti gli aspetti dell'accaduto. Noi adesso lasciamo da parte per un attimo la cronaca e andiamo a rivivere le emozioni della Domenica Amarostica una domenica bagnata dalla pioggia ma contrassegnata dal grande successo della Fiera di San Simeone. Una Amarostica invasa da ombrelli cerate colorate si va all'ingomma nonostante la pioggia grande successo per la Fiera di San Simeone l'attesissima festa del Santo Patrono e del ringraziamento a fine stagione agricola. Devo dire che sono molto soddisfatto della grande partecipazione di pubblico che c'è stata nonostante la pioggia incessante che ci ha accompagnato in tutto l'arco della giornata lasciandoci soltanto qualche minuto di spazio durante la benedizione dei trattori. Un rito, quello della benedizione dei trattori che ha visto sfilare tra gli applausi gli agricoltori del territorio e quest'anno tantissimi giovani al volante dei giganti un passaggio di testimone che sembra aprire la strada alle nuove generazioni. Uno dei momenti più gioiosi è stata sicuramente la sfilata dei trattori ed è stato anche un piacere vedere i numerosi giovani alla guida di questi importanti mezzi che hanno riprecorso un po' tutte le epoche storiche di quello che riguarda la lavorazione nei nostri campi con appunto moltissimi giovani alla guida di questi che di fatto sono i nuovi giovani che guidano anche le aziende. Una giornata ricca di attività giochi per i bambini organizzati dalla protezione civile un tuffo nel mondo dell'apicoltura con storie e racconti visita al castello è una grande sorpresa. Nonostante la pioggia un trenino che portava al castello superiore dove si poteva accedere e lì si trovavano i falconieri che raccontavano e facevano delle esibizioni proprio con questi splendidi animali. E poi il gran finale più di 1500 persone per la tombola in piazza degli Scacchi. Una grande soddisfazione che ha saputo ripagare e che ha visto segnato il premio di 2000 euro. Inaugurata a San Zeno di Cassola la nuova area attrezzata per lo sport all'aperto. Vediamo. Grande festa a San Zeno inaugurata la nuova area attrezzata per lo sport all'aperto nel parco donatore. Una palestra in plein air per tutta la comunità. Giovani, bambini, anziani e persone diversamente abili. Più sport per tutti abbinato infatti ad ogni attrezzo un codice QR code per accompagnare gli allenamenti dei cittadini che nel fine settimana potranno partecipare a sessioni di allenamenti gratuiti. Una giornata dedicata anche ai valori dello sport premiate dall'amministrazione comunale quattro eccellenze sportive cassolesi Filippo Bordignon con il suo terzo posto all'Especial Olympics World Games di Berlino ad Aurora Zonta vincitrice di quattro medaglie ai campionati mondiali di ginnastica in Sudafrica per atleti con sindrome di Draun premiati anche il campione italiano tiro con l'arco Andrea Mattiello e Riccardo Bonazzo che quest'estate ha attraversato l'Amazzone in bicicletta macinando oltre 5.000 km sui pedali. E si avvicina la notte di Halloween in città si riscontra un lieve calo nelle vendite in pasticceria. Si avvicina la notte di Halloween allora la domanda è d'obbligo le famiglie stanno facendo un po' di scorta per il classico dolcetto scherzetto. Quest'anno veramente c'è un po' di calo sì per quello. Un calo di vendite dovuto principalmente ai rincari a livello generale sia delle materie prime che delle utenze. Dico per troppo sì per troppo le materie prime veramente sono salite in sequenza noi altri qualcosa siamo obbligati a metterle. Oltre ai biscotti a forma di zucca e fantasma i dolcetti preferiti si confermano essere le favette. Le favette fatti con albumi mandorle e zucchero ovviamente coloranti alimentari sono boscettini croccanti vanno solo per la festa del Santi. Buona festa buona haluna a tutti e invece la festa non è nostra della zona però si festeggia. adesso la pagina sportiva vediamo come è andata al Bassano impegnato in trasferta quando vai a giocare in trasferta al tuo primo anno di serie D e torni a casa con l'amaro in bocca per aver raccolto un punto su un campo non facile come quello dell'atletico Castagneto allora vuol dire che sei sulla strada giusta per mentalità e atteggiamento il Bassano impatta uno a uno contro i Bresciani sciupando tre palle goal con Forte Chia e Fagan ma veniamo ai goal fatti i padroni di casa si portano in vantaggio su calcio di rigore al ventesimo però Forte pareggia sugli sviluppi di un calcio d'angolo con una zuccata di testa si torna in campo mercoledì contro il Chions sul campo di Caerano San Marco adesso vediamo altre brevi notizie dal territorio Paura a due ville per un incidente avvenuto in strada marosticana nei pressi di San Drigo dove un furgone si è schiantato con una Kia impegnata in una svolta a sinistra su due mezze è piombata una Ford C-Max sul posto la polizia locale Nevi a Bassano i carabinieri hanno fermato in via Capitol Vecchio un giovane che aveva con sé 60 grammi di hashish nella casa del 35enne di Grigno è stato trovato un grammo e mezzo di marijuana a Bassano l'associazione apicoltore marostica promuove con il comune un corso base di apicoltura quattro incontri ogni martedì sera dal 7 novembre in poi in saletta a Bella Vitis alle ore 20.45 e la polizia locale del Campo San Pierese ha scoperto una locazione turistica abusiva vediamo le stanze si prenotavano online attraverso piattaforme note per la ricerca di camere per turisti ma al fisco l'attività di un bed and breakfast di Campo d'Arsego era completamente sconosciuta la polizia locale del Campo San Pierese ha scoperto l'attività abusiva durante un controllo sul territorio l'appartamento era pubblicizzato da due anni con decine di recensioni positive l'alloggio veniva descritto come un appartamento di lusso ed offriva sei posti letto distribuiti in due camere spaziose con due bagni uno dei quali dotato anche di vasca idromassaggio la proprietà dell'appartamento è risultata di una coppia di signori di Campo d'Arsego ma di fatto la locazione turistica veniva gestita dal figlio che non aveva mai presentato la comunicazione alla regione necessaria per tutte le strutture ricettive l'attività è stata segnalata e ora il giovane rischia una multa da 3 a 6 mila euro il gestore però ha subito regolarizzato l'attività posa della prima pietra del cantiere lungo la strada provinciale 34 del Cardo a Borgo Ricco una data simbolica all'interno di un cantiere già di fatto aperto posata la prima pietra dei lavori realizzati lungo la strada provinciale 34 del Cardo antica via romana di comunicazione da nord a sud inizieremo la realizzazione di una pista ciclabile lungo la via del Cardo romano quindi la via principale del paese insieme al Decumanus via Desman che però è già stata fornita con l'ultimo pezzo di pista ciclabile nel 2020 oggi iniziamo questa grande opera che mette insieme più enti diversi quindi oltre alla fognatura la rete idrica avremo anche la pista ciclabile l'allargamento della strada di oltre un metro e mezzo una nuova rete luminosa e una nuova pensierina smart per la mobilità sostenibile un servizio alla comunità con l'ampliamento della strada un servizio all'ambiente con Etra che per i lavori stanza 1.350.000 euro riduciamo gli scarichi diciamo di superficie quindi l'inquinamento e quindi i benefici sono di tipo ambientale ecco noi oggi come Etra copriamo circa il 75% delle nostre utenze mentre siamo quasi al 90% 95% con l'acquedotto e quindi è uno dei nostri obiettivi quello di riuscire a dare al nostro territorio una rete foniaria che permetta ai reflui di andare ai nostri depuratori un lavoro realizzato in sinergia tra i vari enti la maggior la maggior fonte diciamo di queste risorse è la legge 39 la legge 39 del 91 una delle credo delle leggi più efficaci che il consiglio regionale abbia prodotto e si vedono i risultati sul territorio questa è un'opera modello perché il comune ha saputo mettere a regia tutti gli enti coinvolti appunto la provincia essendo questa una strada provinciale l'Etra come società realizzatrice appunto delle infrastrutture fognarie e aquedottistiche e appunto con il contributo alla ragione è riuscita a fare quest'opera di 2 milioni e mezzo di euro che dico è un modello che va esportato è tutto per questa edizione di TG Bassano come sempre vi ricordo la programmazione serale su Rete Veneta con il focus del nostro direttore Luigi Bacialli questa sera gli ospiti saranno Nicola Atalmi Renato Boraso Sonia Brescacin Gianluca Forcolin Antonino Pipitone e Francesca Scatto io come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e vi auguro una buona serata che vi ringrazio che vi ringrazio